eravamo quattro amici al var che volevano cambiare il calcio destinati a qualche cosa in più che a un fischietto e una bandierina si guardava con complicità dalla regia mancocci né città tra un offside netto ed un casche tiravi fuori i tuoi perché e proponevi le tue sanzioni eravamo tre amici al var uno si è comprato una barca si può fare molto pure in tre mentre i tifosi se ne stanno a casa si parlava in dubbia onestà di rimpalli e volontarietà tra un rigor di fino e una bestè tiravi fuori i tuoi vabbè proponevi altre sanzioni eravamo due amici al var uno si è comprato casa al mare forti però siamo noi qui non serve mica essere in tanti si parlava con tenacità di favori e opportunità tra un rosso diretto e d'una sbarla tiravi fuori altri perché e mi dicevi forse è troppo sono rimasto io da solo a me gli altri sono tutti sistemati oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini sono seduti lì vicino a me parlando di Baggio uno anche di Pelè mi sentivo chiacchierare han deciso di cambiare tutto questo calcio che non va sono qui con quattro amici al var che hanno voglia di cambiare il calcio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti